Buongiorno! Anzi buonasera! Che ha detti? Siamo su Drive Club e purtroppo sto usando microfono collegato al joystick della PS4 e quindi è una merda! Sì, il mio amico, Maruino The Past One, mi ha detto di essere più allegro. Allora, adesso facciamo una bella gara. Oddio. Allora, la macchina migliore, ragazzi, quale potrebbe essere? Guardando le statistiche... Vai, proviamo l'Audi. Personalizzazione a cazzo di cane. Guardate quanti siamo. 6 più 6, 12. 12 persone in da lobby, in da house. E grazie all'aggiornamento appena introdotto su Drive Club è disponibile anche la pioggia che caga il cazzo molto ma molto di più. Adesso ve lo faccio vedere, ragazzi. È inguidabile con la pioggia. Già è difficile guidare una moto veloce. Sì, è abbastanza difficile. Oh, voglio vedervi con la pioggia, cazzo! Perché non parte? Oh, dai, eh! Mamma mia, che gioco, mamma mia! Oh, non mi è venito addosso. Oh, ma frena! Madonna, ma vedi che la gente ha fretta. Ma scusa, c'è una curva. Freni, no? No, no. Lui va dritto. Questa è una sfida... ...dove vince chi fa le droppate più grandi, infatti ho già vinto. Vai! Sono sfida che mi mettono in tutto il circuito. Di solito ne mettono una. Mettono due. E disferiscono dal fatto che... ...una è di velocità... ...una è di... ...derappata... ...e l'altra è di... ...stare sopra la striscia. Come... ...su formula 1, no? Dai, le Gabriele, dai, le Gabriele. Le Gabriele all'esterno? Non può, non può, non può. Vai, vai, vai. Accelering. Le Gabriele, l'eterno. Le Gabriele. Le Gabriele. Le Gabriele. Le Gabriele. Oh, grazie! Le Gabriele! Yes! Tre giri, no? Che balle! Vai, 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 vai. Vinciamo un'altra sfida. Yes! My goodness! Hai uno spaghetti proprio. Eh, il problema è quando frenate, ragazzi, che... ...l'auto vi fa a puttani. Ancora sta sfida. No, basta. Io me le faccio queste sfide di merda, che poi finisco fuori strada. Affanculo. Facciamolo passare. Facciamolo passare anche l'altro. Vai, vai, tranquillo. Vai, vai, vai. Adesso ti riprendi. Prete la scia? La scia? Così puoi usare... ...comandi, ma non... ...non del cadetro PlayStation. Mamma mia! Elie Gabriele! Mamma mia! Si, come guidare con una mazza di rimbambiti, però... Va bene lo stesso. Buono. O voi. Adesso ho visto che... ...ve lo avete chiesto in tanti, in tantissimi... ...50. Lo mostro da visuale... ...dalla macchina... ...eh, dal volante, si, dalla macchina. ...data oddio. Va là, la macchina. Buon tempo. Fantastico tempo. Mamma mia! Che lavoro! Qua c'è da frenare. Eccolo. Scopete voi. Amico, c'è scritto frena, frena. Oh, frena! Oh, frena! Eccolo! Cazzo, guarda! Cazzo, guarda! No, esci! E' che il problema è che se... ...sterzo bruscamente, quando sono alla terra... ...fossi delle derapate della madonna. Comunque... ...adesso lo metto a usare così che è meglio. Per me. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Dai, cazzo! Mi stai riprendendo, ragazzi. Mi stai riprendendo. Questa è una delle mie prime gare che faccio online. La storia... ...diciamo proprio questa storia. Le gare della campagna, potrei dire, devo ancora farle tutte. Quindi... ...non sono un livello massimo. Vai. Prendi la scia. 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 Vai! Dai, 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 dai! Ho vinto, ho vinto. Ho la macchina più lunga. No! No! Non è possibile! No! Per un pelo, ragazzi! Per quel pelo! Mamma mia, che gara! Mamma mia, che gara! Dove mettermi il... ...il buco? ...dicendo la buca, così mi sento meglio! Finisce qua questa gara. Manca un secondo che è finita. Eh eh. Nab. Continuiamo. 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 Vuoi continuare. Ok. Va bene, ragazzi. Questa è una gara su DriveClub online. Con l'aggiornamento del tempo. Che è proprio mostruoso. Ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!